Dagli scarti della lavorazione della birra potrebbe arrivare una cura per il cancro. L'hanno scoperto i ricercatori italiani dell'Università di Bari e del gruppo Marrelli con uno studio appena pubblicato su Scientific Reports. L'articolo è il frutto della collaborazione multidisciplinare tra numerosi docenti dell'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro, in collaborazione con tre strutture del gruppo Marrelli. La Technological Research Institute, rappresentata dal suo dottor Marco Tatullo, e la Calabro Dental, unitamente alla sezione di ricerca sperimentale del Marrelli Hospital, entrambe rappresentate dal dottor Massimo Marrelli. Consiste in un principio che è assolutamente innovativo, cioè il fatto di poter ricavare dalle acque di birrificazione, dove la birrificazione è il processo fatalmente di produzione della birra, delle proprietà biologiche rappresentate dai polifenoli, che hanno mostrato un'attività duplice. La prima attività era abbastanza risaputa, cioè l'attività antiossidante, con delle azioni a livello mitocondriale, e la seconda, assolutamente una serendipity, qualcosa di improvviso e imprevisto, è questa attività antitumorale, dove ovviamente antitumorale lo dobbiamo prendere sempre molto tra virgolette, nel senso che hanno mostrato la capacità di inibire la replicazione delle cellule tumorali e quindi di fatto limitare la progressione della massa oncologica. Il nostro contributo è stato quello di andare a fornire delle tecnologie all'avanguardia che erano assolutamente reperibili presso i nostri laboratori, sia di Tecnologica SRL sia di Marrelli Hospital, e poi ovviamente contribuire da un punto di vista della produzione scientifica anche con l'apporto di CalabroDental, vista l'esperienza ormai pluriennale nel campo della ricerca. I test condotti in laboratorio hanno mostrato che le cellule tumorali umane trattate con le acque di risulta della birra si sono letteralmente estinte. I polifenoli sono sostanze prodotte naturalmente dalle piante per proteggersi e curarsi dalle infezioni, come una sorta di antibiotici verdi. Grande soddisfazione per il reparto di ricerca del gruppo Marrelli che ha aggiunto alla lunga lista di ricerca anche questa importante ricerca scientifica.